buongiorno a tutti questo video tutorial per la compilazione della domanda di mobilità segue gli altri video già pubblicati che riguardano per esempio la compilazione la domanda per quello che riguarda le l'anzianità del servizio dunque la sezione anzianità del servizio che abbiamo già visto come si va a compilare abbiamo detto che nella varie nelle varie sezioni è imprescindibile la compilazione della scelta del tipo di posto altrimenti il sistema non acquisirà la domanda allora scelta del tipo di posto dobbiamo sapere che abbiamo delle opzioni il docente deve indicare se caso mai fosse titolare su posti di sostegno se soggetto al vincolo oppure non al vincolo allora nel caso in cui un docente titolare in un posto comune chiaramente non deve compilare e non avrà la possibilità di compilare questa casella perché sarà impedito la compilazione in quanto il sistema vi riconosce già titolari di un dato posto di un tipo di posto invece per coloro che sono titolari nel posto normale e chiedono il trasferimento sul posto normale devono selezionare per esempio uno in questo modo se poi hanno anche la speciale la specializzazione sul sostegno potranno indicare due quando è stata compilata in questo modo la domanda e qualora chiaramente ci sia il titolare sul posto comune abbia la specializzazione anche sul sostegno sta dando priorità prima al posto normale e poi al posto sostegno dunque in subordine avrà poi la macchina lavorerà per accontentarlo su posto di sostegno dopo non aver trovato nessun posto normale se viceversa vuole dare priorità al posto sostegno deve indicare uno al posto sostegno e due al posto normale potrebbe anche decidere di diciamo partecipare solo su posti normali e dunque fare nessuna selezione sul sostegno e chiaramente andare prioritariamente solo sul posto normale o viceversa non dare selezione a nessun posto normale e lavora far lavorare la macchina solo sui posti sostegno per cui ci sono tutte le combinazioni possibili e immaginabili nel caso mio che non sono diciamo titolare di una specializzazione sul sostegno non questo diciamo titolo è chiaro che potrò diciamo così affrontare la mobilità solo per la tipologia di posto normale e siccome ripeto non ho titolo di sostegno non sono soggetto a nessun vincolo quale titolare di posto di sostegno dunque sul 35 rimarrà no a questo punto io potrò sulla scelta di tipo di posto chiudere la domanda e passare alle sezioni successive speriamo che questa questo fatto questo questa sezione deve essere necessariamente compilata per consentire all'aspirante di poter partecipare e poter salvare la domanda dopo aver inserito almeno una preferenza il prossimo video parlerà proprio delle preferenze a presto arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti